Ciao a tutti, oggi ho deciso di farvi un video di review e di parlare del face cleansing della linea bellissima Imetec, ovvero un simile Clarisonic. Era da un po' che ho deciso di fare questo video, ma ho deciso di farlo oggi per un motivo particolare, perché l'ho trovata in offerta sul sito Privalia, per chi non lo sapesse è un sito di vendite private, basta iscriversi e si acquista tranquillamente con Paypal, Postpay, è un sito tranquillissimo, io ci acquisto molto spesso, mi sono sempre trovata benissimo. E c'è appunto una vendita Imetec, dove l'ho preso anch'io un paio di mesi fa, ed è molto scontato, ovvero il prezzo iniziale è di 67€ e sta a 29€. Quindi appunto ho deciso un attimo di parlarvene, perché secondo me è un acquisto che vale la pena di fare. Allora, come vi ho detto, si tratta di un simile Clarisonic, della linea bellissima Imetec, e in dotazione, ovviamente è molto più economico del Clarisonic, che insomma sapete tutti che non è proprio per tutte le tasche. Lo volevo da tanto, ma sinceramente è veramente un prezzo troppo troppo alto, e quindi era la ricerca di un buon simile. Ne avevo trovati anche, diciamo, alcuni su Buycoins, quindi diciamo più sui negozi di cinesi, ma poi il problema era anche trovare le testine. Quindi non volevo magari pagare poco questo qui, e poi però trovarmi magari dopo due mesi, che devo cambiare la testina, buttarlo perché non trovo la testina, mi sembrava una cosa un po' inutile, insomma. E quindi, dato che controllo spesso questi siti di vendita, perché si fanno degli affaroni, magari se vi interessa vi faccio anche un video sui siti dopo acquisto spesso, dove ci sono delle vendite private interessanti. Fatemi sapere con un commento se vi potrebbe interessare questo video. Insomma, parliamo di questo ora. In dotazione vengono date quattro testine e una base. La base non è di ricarica, è solamente una base di appoggio, come vedete. E io l'ho messo lì nel mobiletto del bagno e lo uso tutte le sere, quando voglio, anche la mattina. Ah, non è vero, sono cinque testine, scusate, ne ero persa una. Allora, iniziamo subito dalle testine. La prima testina è questa qui, si chiama Normal, ed è appunto una testina morbidissima, e che va usata con un detergente, si aggancia semplicemente appoggiandolo, si accende qui con il suo interruttore, e voglio precisare che non gira la testina, ma siamo noi a fare il movimento rotatorio, ma emette solo una forte vibrazione. Io sinceramente non mi ricordo con precisione, ma se non erro, anche quando sono andata le varie volte da Sephora, anche il Clarisonic non gira totalmente la testina, ma se non sbaglio emette solo delle leggeri oscillazioni. Magari chi ce l'ha me lo faccia sapere, perché non voglio dire cavolato, insomma. Questa è la Normal, ovvero quella adatta a pelli normali. E nonostante fosse per le pelli normali, è comunque morbidissima. Io sono sincera, questa non la uso, perché essendo che comunque la mia pelle si arrossa facilmente ed è molto delicata, uso appunto la testina apposita, che è la Sensitive, che rispetto alla Normal è molto più morbida, ed è molto più fitta, le sedole molto più fitte fra loro. E io questa qui la uso dopo essermi struccata, se vi interessa anche il video della mia routine serale, fatemelo sapere perché lo girerei stravolentieri. E lo uso con un detergente, io l'ho provato i diversi, sinceramente non mi piace usarla con detergenti in mousse, perché essendo che poi va a fare vibrazione, crea ancora più schioma, e quindi sta tipo tre ore e poi risciacquarti, e sinceramente mi dà un po' fastidio. E quindi lo uso con un detergente liquido normale, al momento sto utilizzando questo, della Gently, che è la linea che si trova al Todis, low cost, se non sbaglio l'ho pagato 2,09 euro, sono 350 ml di prodotto, e ha un ottimo ottimo inci. È buonissimo, strucca anche i residui di trucco, che non sono andati via, magari con il latte di detergente, o con lo struccante, è davvero davvero buono. E questo qui mi ci trovo benissimo ad usarlo, in combo con il simile Clarisonic, insomma, perché deterge a fondo, non fa un'eccessiva schiuma, quasi nulla, e quindi anche fa risciacquare abbastanza veloce. Altra destina è questa, che è la destina per il peeling, per lo scrub, insomma, che ha le sedole molto più dure e compatte, rispetto alle precedenti, però, pur essendo dure, comunque non vanno né a graffiare, né ad arrossare la pelle. Io la sto usando adesso, con uno scrub che sto cercando di finire, perché non mi piace particolarmente, ed è questa maschera scrub di Bottega Verde. Ed è carino il fatto che comunque io la applico, metto sempre qui, e vado proprio a scrubbare in profondità. è veramente carina, io pensavo all'inizio toccandola che mi potesse dare un po' fastidio per la pelle, invece, sinceramente, è davvero perfetta. Non so, questa ha due colori, se come vedete, non riesco a capire dal semplice tatto se le sedole nere sono più dure delle bianche o no, se solo per un aspetto estetico, insomma. Poi, altra destina, che onestamente è quella che uso meno, è questa qui, che ha queste tre palline, che fanno, diciamo, un massaggio, ed è indicata soprattutto per l'applicazione di oli. Io, infatti, al momento, quando ho voglia, perché onestamente è quella proprio che uso meno, perché la trovo non inutile, però, sa che non utilizzo neanche chissà che sieri o oli sul viso, però sto attestando dei prodotti che mi hanno inviato e lo sto utilizzando con questo siero viso della ringana, dei prodotti naturali, e si applica bene. Già comunque questo è un fluido che si assorbe in frettissima. Con questo ho ancora di più e poi comunque va a massaggiare e riattivare la microcircolazione. Infine, la mia testina preferita in assoluto è questa. È una testina in lattice, che però non sono sicura sia 100% lattice, perché comunque, quando la vado a lavare, se fosse lattice si gonfierebbe, invece, no, assolutamente. Ed è una testina per l'applicazione della crema. Vediamo se c'è un nome. Non ha un nome. Ed è favolosa. All'inizio era quella che pensavo di utilizzare meno, perché ho detto, boh, abbiamo la crema, la metto con le mani e via, insomma. Invece è diventata praticamente la mia coccola, sia la mattina che la sera. Questo lo utilizzo e lo utilizzo con la mia crema preferita, che è l'Etherea di neve. Già comunque questa si assorbe in fretta di suo. Io la metto sul viso e passo questa facendo dei movimenti circolatori, massaggiando, e si assorbe in frettissima, lascia la pelle morbida, morbida, morbida. E poi è proprio, come posso dire, piacevole, insomma. È veramente carina, carina questa testina. Queste sono appunto le cinque testine, che sono in dotazione. In dotazione viene data anche questa pochettina, diciamo, da viaggio, dove io ripongo le testine che non uso. tipo quella dello scrub, quella per il siero e quella per le pelli normali, che sono quelle che non uso spesso, e tengo sempre fuori quella per la crema e la sensitive, che sono quelle che uso tutti e tutti i giorni. Dopo ogni applicazione le lavo, semplicemente con acqua, ti avida il sapone, strofino, va via subito, come vedete, questa pur utilizzandola tutti i giorni, è pulitissima, morbidissima, cioè non si induriscono le sedole, non perde sedole, e allo stesso modo anche questa, io la lavo tranquillamente, con il sapone, e con un sapone delicato, si pulisce, rimane morbidissima, e secondo me, posso dirvi che in definitiva, è un ottimo, ottimo acquisto da fare, non so se posso sostituire il Clarisonic, visto che comunque non lo ho, ma secondo me, per il prezzo che ha, le testine che dà in dotazione, e tutto quanto, secondo me, è veramente ottimo. A livello di pelle, posso dire che ho notato dei grandi grandi miglioramenti, soprattutto se ho utilizzato costantemente, la pelle risulta più pulita, più liscia, morbida, meno punti neri su naso e mento, ma posso anche dirvi, che questa non so neanche se, definirlo un pro o un contro, insomma, sono stata male una settimana, in quella settimana, insomma, se non mi trucco la sera, non so a passarmi questo, e mi sono usciti un po' di brufolini, nel senso, no, anzi, più che brufolini, mi erano riaumentati i punti neri, nelle zone critiche, ovvero, per me sono naso e mento, quindi effettivamente, come se la pelle sentisse, la mancanza, di questo trattamento, non so come spiegarvi, però, secondo me, dà degli ottimi risultati, è un ottimo acquisto, che vi consiglio di fare, e appunto, andate a vedere su Privalia, che, prenderlo scontato, direi, che non è male, fatemi sapere, se vi è stato utile, questa recensione, se vi interessano, qualche altra review, di qualsiasi cosa, e ci vediamo al prossimo video, ciao!